La più cordiale buonasera il centro sportivo del Ponte Ferraioli per l'ultimo alto del torneo dei Rioni le squadre che stanno man mano sfilando in campo annunciate dallo Spiger e sta per entrare appunto il Ponte Ferraioli maglia gialla pantaloncino nero calzettone. Con il Bar Panici in casacca azzurra il portiere indossa invece una maglia rossa rimesso in gioco da Bar Panici Torosani avanza vede Perna la possibilità il tiro soltanto la traversa riconquista il pallone poi si perdono nel disimpegno ancora Perna la risposta di Serrecchia a parte il fischio partono anche i due giocatori la risposta di Serrecchia. Conclusione Torosani adesso Perna l'impegno non è dei migliori e spreca a noce di partire subito il cavolgimento di fronte del portiere Iacobelli verso Torosani che fa tutto da solo. Calcio d'angolo per Bar Panici perna si gira la palla messa in mezzo e c'è il gol che sblocca il confronto di Venettacci. Presso che simile soltanto dalla parte opposta ci prova la risposta adesso è di Iacobelli. La difesa del Bar Panici se ne va intanto di Girolamo la possibilità con noce e ancora la risposta di Iacobelli. Chiama i compagni di squadra a salire la possibilità per Torosani spreca recupera caschera molto velocemente fa tutto da solo se ne va poi vede libero di Girolamo la diagonale. Per Bar Panici perna se ne va intanto Torosani. Torosani gli soffia il pallone e se ne va si ferma ma poi a ragionare continua a far tutto da solo prova e c'è il gol bellissimo. Da parte di Torosani il raddoppio la perla di Torosani per il raddoppio del Bar Panici intanto adesso va a recuperare Palombi. Prova e c'è il gol primo minuto di gioco veramente impressionante questa rasoiata per il lungo Torosani. Il diagonale solo il palo dice di novene e tacci e poi la deviazione da parte di Palombi. Palombi la finta invece verso di Girolamo ancora di Girolamo la palla messa in mezzo e incredibilmente palla messa fuori. Il risultato è il risultato e Noce ha proprio sradicato il pallone dalla linea di porta. Pesca Palombi con la testa all'indietro di Girolamo. Adesso di Girolamo la conclusione per Torosani il capitano che ha aperto il gol del raddoppio adesso ancora in gol e poi non riesce a fare altrettanto in un'altra caschera. Il diagonale ancora e c'è l'indecisione adesso di Jacobelli. Arriva il triplice fischio finale. Bar Panici si aggiudica questa edizione del torneo De Rioni qui a Ponte Ferraioli battendo per quattro reti a due Ponte Ferraioli.